Arrivano disdette da parte di turisti che vorrebbero provare una volta nella vita il famoso trenino rosso del Bernina, ma che venuti a sapere del rischio di viaggiare da Tirano a St. Moritz in piedi preferiscono rinunciare. Soltanto nei giorni scorsi la ferrovia retica ha diffuso i dati dei flussi del 2023, ovvero un milione di viaggiatori da tutto il mondo, di cui 300.000 italiani, che portano in dubbi benefici anche a Tirano, dove in 10 anni il numero dei posti letto è aumentato del 150%. Ma nubi nere si stagliano all'orizzonte per la nomea del vettore elvetico e per il comparto economico abduano, se non sarà possibile risolvere il problema della prenotazione dei posti sul trenino, ad oggi non possibile, in quanto la ferrovia è considerata un servizio pubblico. È vero che il trenino rosso del Bernina, dopo che è diventato patrimonio dell'UNESCO, ha creato molto movimento su Tirano e sono aumentati i posti letto. È un'altra cosa molto importante che dobbiamo fare attenzione di creare un servizio giusto al trenino. Purtroppo con tutte le persone che prenotano, a volte può succedere che pur pagando il biglietto oltre i 70 euro, facciano il viaggio di andate e ritorno in piedi. E chi questo disservizio l'ha provato, ha lasciato una recensione negativa o se ne è lamentato con agenzie e social, attivando quel passaparola che può diventare deleterio. Per questo motivo è stata convocata una riunione a fine marzo a Poschiavo, fra i vertici della ferrovia retica e gli operatori turistici, per confrontarsi sulla problematica e trovare una via di uscita. Due, le proposte del Consorzio Turistico, l'istituzione della prenotazione dei posti, visto che l'80% dei viaggiatori è costituito da turisti, e l'aggiunta di una carrozza per il servizio di trasporto pubblico.